Vetrine spaccate, porte sfondate, serrature di velte. I commercianti di Via Catania, nel cuore di Borgo Rossini, ora hanno paura. Nelle ultime settimane diversi punti vendita della zona sono stati presi di mira dai ladri. L'ultima vittima è Ezio Bonino, titolare del negozio di tè, che alcune mattine fa ha trovato il locale a soccuadro. Hanno spaccato il vetro e in realtà non sono riusciti a prendere molto perché c'era solo un po' di moneta in cassa. sapendo di questi problemi che si stanno susseguendo abbastanza con frequenza ultimamente non lasciamo più fondo cassa. Hanno però divelto il vetro e quindi c'è un grosso costo, una grossa scocciatura per rimetterlo a posto. Bersagliata dai ladri anche la nuova pizzeria napoletana che è aperto da circa un mese. Il titolare ha chiesto di non essere ripreso ma ci ha raccontato dei tre furti con scasso subiti in una sola settimana. Quando non hanno trovato niente da rubare si sono accontentati diciamo di bottiglie di liquore. Tutte e tre le volte comunque hanno fatto danni, ci hanno spaccato porte, finestre, abbiamo provveduto a installare serande blindate, abbiamo dovuto mettere una guardia anche la sera. Tutto questo per evitare comunque che il nostro lavoro vada in mano a qualche allegro sconosciuto. La libreria di via Pisa, a pochi passi dal fiume, ha affidato ai social il racconto dell'intrusione subita alcune notti fa. Porta scassinata e vetri ovunque per rubare pochi spiccioli. Stessa sorte è toccata per tre volte al bar Bloom all'angolo tra via Catania e via Modena. Sicuramente il fatto che in settimana la zona, nonostante la presenza di diversi locali, in serata sia molto tranquilla, agevola questo tipo di microdelinquenza, microcriminalità. Su questo noi abbiamo già parlato anche con la circoscrizione, anche con chi è preposto al controllo per cercare di trovare delle soluzioni, magari anche intensificando i passaggi delle forze dell'ordine in modo da scoraggiare questo tipo di atti criminali.